A che ora il treno andare? What train? Dove è il treno? Cosa fa? A che ora il treno andare? 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 A che ora il treno andare? Cosa fa? Cosa fa? Cosa fa? Cosa fa? Cosa fa? Cosa fa? I can't find that train. I can't find that train. What the hell are you talking about? A train. Don't enter. I can't find that train. But he is J. I can't find that train. Hog o'er. Drummond the drum. Che cosa? Cosa fa? A che ora è in Italia? E' vero? Andare!